Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ferrara torniamo a Serie, attenzione, il pallone messo dentro! Non ci credo! Arriva il gol! A 15 anni, 9 mesi e 15 giorni, la più giovane marcatrice della storia del città di Falconara. Si chiama Sofia Saluzzi e il suo nome entra nell'almanacco all'ottavo minuto della ripresa della sfida tra le falchette e la Visfondi, diciassettesima giornata della Serie A femminile. Lei in copertina insieme alla Next Generation di Falconara, oltre a Polloni, tra i pali dal primo minuto, in campo pure Zepponi e Pirro. Una grande soddisfazione anche per Mr. Mosca, il tecnico dell'Under-19, che ha accompagnato queste ragazze allo scudetto giovanile della stagione scorsa. Finisce 7-1, successo che permette alla squadra di Mr. Neri di restare al quarto posto in classifica a tre lunghezze dalla venta. Gara ha senso unico, le Citizen mettono la freccia già al terzo. Isa Pereira recupera palla a centrocampo, dai e vai con Tati, poi allarga per la corrente Rozzo, che va a Dama. La caccia raddoppiovede impegnata Pratico. Il 2-0 però lo firma di lì a poco Isa Pereira, con una sassata sotto il set. Ancora Falconara pericoloso con Pratico e Dalmaz. E Fondi che si fa vedere in avanti con Diaz, ma Polluni a tetta. Al diciassettesimo la rete del 3-0. Rozzo tira, gli arricciopare, irrompe Dalmaz e non perdona. Le ospiti accorciano le distanze 26 secondi dopo con Guercio dalla distanza. E allora si va a riposo sul 3-1. Nella ripresa Falconara dilaga. Taina mette lo zampino sul gol di Ferrara, bel diagonale sul secondo palo. E poi danza in area nello stretto con Dalmaz, che trova la porta spalancata. Preso in largo, Mister Neri dà spazio alle under. La classe 2006 Zepponi, alla seconda presenza in Serie A, si fa vedere perfezionando il disimpegno di Polluni sul tiro di Zomparelli. Poi il turno di Saluzzi, esordio assoluto bagnato dal gol, dalle lacrime sue e di un pala badiale impazzito in piedi ad applaudire. Più avanti, Rozzo affonda la lama del settimo gol. Nel finale, i pali di Ferrara e Taina. Domenica prossima le campionesse d'Italia in Veneto per la trasferta contro la VIP Tombolo. Grazie. Grazie.